Nel video parleremo della contenzione in ortodonzia e della recidiva dopo il trattamento ortodontico. Ormai c'è sempre più quella convinzione che una bella forma e l'applicazione di specifici schemi occlusali comportino adeguate funzioni, ma in realtà non sempre è così. Bisogna conoscere come cambia la bocca fisiologicamente con l'invecchiamento. Di fatti le bocche giovani sono quelle che hanno delle guide più accentuate, delle cuspidi più alte e dei cicli masticatori più verticali. Le bocche meno giovani invece, come conseguenza dell'usura dentale fisiologica, hanno delle guide più piatte e dei cicli masticatori più orizzontali. Ragion per cui non si deve confondere la maturazione della bocca con la patologia. Erroneamente si pensa infatti che una bocca con i denti consumati non funzioni bene. In realtà invece l'usura dentale fisiologica comporta maggiori capacità trituranti. Una bocca che funziona con dei meccanismi prevalenti di masticazione verticale non è funzionale. Se c'è invece una masticazione orizzontale, i condili si muoveranno in modo corretto. E la mandibola tenderà anche a scivolare in avanti per il meccanismo di deriva mesiale. E questo nel tempo protegge le articolazioni temporomandibolari. Perché vi ho detto tutto questo? Perché quando si completa un trattamento ortodontico bisogna cercare proprio di arrivare da questo tipo di situazione. A una situazione in cui ci deve essere la massima libertà di movimento mandibolare, non con delle guide canine come molti fanno con il trattamento ortodontico, ma con delle guide di gruppo. Le nozioni quindi classiche di contenzione in ortodonzia e di stabilità occlusale nel tempo devono essere appunto riviste. In ortodonzia infatti la stabilità non è quella che molto spesso in tanti fanno, cioè la costruzione coatta tramite lo splintaggio della forma raggiunta tramite la terapia. E invece il mantenimento di una buona occlusione sia in statica che anche in dinamica e quindi garantire una corretta masticazione orizzontale al paziente. Difatti molto spesso noi cerchiamo di forzare al massimo l'allineamento dentale, ma spesso sembra che i denti non vogliano stare dritti e tornano storti. E' per questo motivo che spesso i denti storti dopo un trattamento ortodontico si verificano frequentemente, perché la posizione dei denti dipende appunto dall'azione dei muscoli. Spesso i denti storti nel settore anteriore della mandibola sono infatti causati da un'alimentazione civilizzata che non provoca delle corrette usure dentali a livello occlusale, ma anche a livello interprossimale, perché le usure interprossimali risultano essere di cruciale importanza per il graduale accorciamento, per la graduale riduzione del perimetro globale d'arcata. La conseguenza infatti, nel momento in cui appunto non c'è una corretta usura dentale, è la contrazione della distanza intercanina inferiore. La letteratura spesso considera questo fenomeno come naturale, fisiologico, ma in realtà è l'effetto di un organo masticatorio squilibrato con una masticazione verticale che genera una contrazione centripeta e va a ridurre la distanza intercanina. Invece bisogna sempre mantenere stabile la distanza intercanina, come si fa per avere appunto dei denti sempre dritti nel settore anteriore della mandibola, creando la cosiddetta mandibola quadrata. E quindi non dobbiamo trattare il sintomo, ma dobbiamo, diciamo, trattare le cause delle malocclusioni. Molto spesso assistiamo addirittura alla rottura degli splintaggi. Questo perché con i trattamenti ortodontici classici si va a garantire soltanto una masticazione verticale. Ma la masticazione verticale comporta nel tempo tre problemi. Problema numero uno. C'è un collasso del diametro intercanino inferiore, con conseguente affollamento dentale. Per evitare ciò si deve quadrare la mandibola. Problema numero due. Si ha una distalizzazione della postura mandibolare che va a spingere i condili più indietro nelle cavità gliloidee. E problema numero tre. C'è la chiusura del torque degli incisivi superiori, molto spesso data dal bracket pretorcato e preinformato. E questo provoca un aumento dell'overbite e quindi un collasso verso il morso profondo. Si va quindi, come potete ben intuire, a creare un circolo vizioso che tende ad automantenersi nel tempo e addirittura a peggiorare nel corso del tempo. Ma questo soltanto perché molto spesso si fa solo ortodonzia estetica, senza considerare la masticazione che è la funzione primaria della bocca. Se non si va ad equilibrare l'occlusione e la masticazione è inutile riadrizzare forzatamente i denti, perché ci sarà il rischio nuovamente di incorrere o in una recidiva o nei casi più gravi anche in disordini cranio mandibolari. Noi cerchiamo di portare i denti in una specifica posizione alle volte, ma loro sembra che non vogliono stare in questa posizione. La recidiva ortodontica infatti è considerabile come il sistema immunitario dei denti. Quindi se non si correggono le cause delle malocclusioni, ci sarà sempre la recidiva. Ma ahimè, come dice Profit, soltanto nel 5% dei casi si riescono a comprendere le cause delle malocclusioni. E spesso con il trattamento ortodontico quello che si fa è andare anche a restringere il range di libertà dei movimenti mandibolari. Per mantenere i denti dritti si deve lavorare sull'equilibrio occlusale, e quindi si devono ottenere delle efficaci traslazioni nei movimenti di lateralità di protrusione e di lateroprotrusione che vadano appunto a stimolare in senso centrifugo il sistema, garantendo quindi nel corso del tempo e senza diciamo anche l'uso dei retainers, un sistema che si vada ad autoequilibrare. E questo si ottiene usando dispositivi ortodontici che permettano appunto di avere una libertà di movimento mandibolare, e di avere una libertà nella risposta eruttiva dei denti. E' chiaro che però questo comporta dei tempi più lunghi rispetto all'ortodonzia convenzionale attuale, ma il valore biologico sarà maggiore e ci sarà una corretta masticazione. Spesso la mandibola tonda viene venduta come sana, ma in realtà questa causa patologia e causa anche stabilità nel tempo, e di fondamentale importanza quadrare sempre la mandibola, lo diceva sempre Pedro Planas. La masticazione verticale infatti è stato visto che induce dei conflitti neuromuscolari, e questo conflitto può riperberarsi a livello del sistema nervoso centrale, innescando dei meccanismi di parafunzione. Infatti la formazione reticolare entra in iperattivazione e innesca un circolo vizioso che si automantiene, scatenando quindi delle parafunzioni notturne, soprattutto se abbiamo un morso profondo oppure un'estrema guida anteriore. Grazie.